Si è insediato questa mattina il nuovo consiglio comunale di Songavazzo. Durante la seduta il neosindaco Giuliano Covelli ha comunicato la composizione della giunta. Stefano Savoldelli è stato nominato vice sindaco e assessore a istruzione, cultura, bilancio e turismo. Guido Fratta, assessore alla mobilità, attività produttive, rapporti coglienti, giovani e sport. Alda Salera, assessore ai servizi sociali e anziani. Giovanni Covelli, assessore a lavori pubblici e edilizia. Deleghe sono state assegnate anche ad alcuni consiglieri di maggioranza. Nel corso del dibattito sull'indirizzo di governo è tornata in primo piano anche la campagna elettorale. Al centro del confronto una lettera distribuita in paese dalla lista dell'attuale maggioranza. Sentiamo a questo proposito le interviste al capogruppo di minoranza Aurelio Biassoni e al primo cittadino. Aurelio Biassoni, capogruppo di minoranza Songavazzo. Oggi la campagna elettorale è tornata nel primo consiglio o perché? Ma è tornata semplicemente per ragioni di chiarezza, di chiarezza soprattutto e di verità, soprattutto verso i cittadini Songavazzo. Perché, vedete, è stata distribuita una lettera l'ultima notte precedente il voto amministrativo, nella quale venivano poste in dubbio, venivano messe in discussione alcune delle cose reali che Songavazzo merita, che Songavazzo può e dovrà ottenere. Veniva detto che non c'erano da parte dei componenti dell'attuale maggioranza di ideale comune che sostenevano il sindaco Covelli. Veniva detto che non c'erano i soldi, ad esempio, per i nostri boschi. Oggi è stata occasione utile per riprecisare invece, catti, documentazione alla mano, che questi soldi, mezzo milione di euro, ci sono e sono già stati stanziati. Veniva detto che non c'erano i soldi per la passerella ciclopedonale sul torrente Borletta. Altra occasione utile è questa seduta per dire che invece questi soldi ci sono, sono 573 mila euro e che saranno recuperati dai fondi strutturali europei. Anche la casa di riposo per gli anziani c'è, ci saranno 7-8 posti riservati agli anziani di Songavazzo nella convenzione che si andrà a stipulare. E da questo importante punto questa maggioranza spero non voglia sottrarsi e chiamarsi fuori. Quindi sarà un'occasione estremamente utile, lo ribadisco, per precisare ai cittadini di Songavazzo chi stava dalla parte della verità, chi diceva le cose reali, chi si è preso anche la responsabilità per dare delle risposte concrete al Paese. Strascichi di campagna elettorale, primo consiglio comunale di Songavazzo, però voi avete ribadito quanto avevate già sostenuto nella lettera distribuita l'ultimo giorno. Nella cui lettera ho ribadito in consiglio comunale noi approviamo il 101% dei contenuti. Quindi il nostro rammarico sta nel fatto che nel consiglio comunale di insediamento si è guardato indietro anziché guardare avanti. Questa è una piccola nota di rammarico. Io potrei entrare nei dettagli tecnici, ma preferisco evitare proprio per dare ampia apertura, manifestata anche dalla minoranza, verso il futuro di Songavazzo e non nel passato. Consiglio comunale insediato, comunicato anche la composizione della Giunta, l'amministrazione è pronta per lavorare. Quali sono i primi obiettivi? L'obiettivo primario è quello di essere presenti negli uffici comunali, non in senso fisico, ma proprio materiale e a supporto di tutte le esigenze che emergeranno in Paese. Quindi il fatto di ricominciare a progettare è per noi un tassello fondamentale. Senza progetti non ci sono possibilità di chiedere contributi, non ci sono poi dopo neanche le opere realizzate o da realizzare. Quindi iniziare con la progettazione, con le idee che già abbiamo e sono tante che intenderemo sviluppare nei prossimi anni. Ampia apertura a tutti i cittadini che vorranno collaborare per verificare di volta in volta le problematiche che emergono e ampia apertura quindi a tutte le potenzialità presenti in Paese, che sono molte e su cui contiamo vivamente.